Ti dà proprio un senso di libertà, essere in contatto con la natura così è proprio la vivi, la vivi. Ciao, sono Moreno, ho 38 anni, vivo sul lago di Garda, precisamente a Darco e pratico parappendio da circa 30 anni. Quando ero ancora all'alimentare mio padre ha fatto il corso e appena avuto la possibilità mi ha dato la vela in mano in campo scuola e subito c'è stato feeling a prima vista. Io ho iniziato a volare un volo libero praticando volo di distanza dopodiché nel 2016 sono partito per andare in Brasile a provare il record del mondo di distanza e tornato da lì ho iniziato una nuova disciplina, si chiama Hike and Fly, cammina e vola. Ci sono delle gare di diverse centinaia di chilometri dove devi raggiungere delle boe a piedi o in volo. Diciamo che questo sport mi prende a 360 gradi, è diventato anche il mio lavoro essendo che sono pilota professionista, accompagno in tandem le persone a volare. Ti dà proprio un senso di libertà essere a contatto con la natura così è proprio la vivi, la vivi sia quando corri quando cammini che quando sei in aria che voli magari con le aquile a 4.000 metri sopra la marmolada, è un senso di libertà assoluto. Ho otto ore di volo attraverso le Alpi, atterri che non ci sono parole per spiegare questo. Durante le mie gare la leggerezza è fondamentale anche perché durante alcune giornate devo salire dai 4 ai 6.000 metri di dislivello in un giorno quindi leggerezza uguale velocità. La nostra attrezzatura è molto avanti in termini di ricerca e sviluppo, molto duratura, pratica, leggerissima, poco ingombrante e passi da usare. Questo è quello che ricerchiamo, che fa la differenza è la preparazione mentale e la preparazione tecnica. Non serve essere dei super atleti, l'importante è avere i piedi sempre per terra. E il mostro sono i nostri strani, anche perché non può fare una sicurezza, ma non può avere i nostri strani, anche perché non può avere i nostri strani, che ne può essere gli aspetti di liurezza, è una storia in un'altra cosa. Grazie a tutti